In Velfo Mazzilis de Gurdilie 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 Perché ho iniziato a scrivere in dialetto? Innanzitutto per imitazione Perché la Romagna stava ripartendo Con sta lingua che se ne stava piano piano andando Ma stava ripartendo con dei picchi altissimi di poesia I Sant'Arcangiolesi ma anche i Cesenati, i Longianesi E quindi preso un po' dalla bellezza di questa poesia Dei Baldini, dei Fucci, dei Guerra, dei Pedretti Ho iniziato un po' anche a scriverlo Ho cominciato a scrivere intorno ai 17 anni Ho cominciato perché sentivo di avere qualcosa dentro da dire Nella lingua dei miei padri, nella lingua della mia famiglia Quando ho iniziato era un periodo in cui leggevo molto le poesie di Giuliana Rocchi Quindi lei è stata per me una sorta di apripista Anche se poi fondamentale è stato l'apporto di Gianni Fucci Che mi ha insegnato la grafia dialettale E mi ha aiutato in questo percorso di scrittura Per un poeta la cosa più importante è certamente la lingua La lingua nella quale si esprime Che è una sua lingua propria Ho fatto l'esperienza in questa lingua Ho vissuto per lungo tempo nel dialetto, col dialetto E di questa lingua ho scoperto tutte le possibilità, tutti i segreti Tutte le grandi qualità che ha una lingua che ha origine orale Ho scelto il dialetto perché era più consonante con la mia esperienza, con il mio mondo Poi dico ho scelto, probabilmente è stato il dialetto che ha scelto me Questa cosa qui parla di Ilario Fioravanti che è un grande artista cesenate che è un amico Ed è un racconto suo che poi ho trascritto La Madonna l'ha apprezzata La Madonna l'ha apprezzata Poi l'incontro con Gianni Fucci che mi ha fatto scoprire Prima la Giuliana Rocchi e poi tutti gli altri poeti dialettali È stato fondamentale In quanto mi sono avvicinata alla vera poesia Ho anche affinato con il tempo la mia scrittura L'ho resa più elegante E adesso vado sempre di più verso l'essenza Mi sto prosciugando Ma... Ma personalmente La televisione ha l'obriso I have no TV Ich habe keine flema No, perché me è la lingua Me è un fai perdì All'isciò E ho sirei il mondo Ho scelto tutti i nomi Ho scelto tutti i nomi e ho deparato tutto il mondo E ho imparato tutto la lingua Io voglio capire La poesia in dialetto romagnolo Costituisce un caso unico Nel panorama letterario nazionale contemporaneo Il fenomeno ha origine agli inizi degli anni 70 Quando Tonino Guerra, precisamente nel 1972 Pubblica tutte le poesie che aveva scritto fino allora in dialetto romagnolo In una raccolta intitolata Ibu E pubblica questa raccolta Presso un grande editore Rizzoli E con l'introduzione di uno dei massimi italianisti Di quell'epoca Cioè Gianfranco Contini Un posto Rott T'l'armor Spicere beale Rizzoli Il finestrino Stiamo in ascolto di un posto nel mondo Siamo qui per questo Si no perché E questo è il modo di guidare Solo perché la piazza vuota è tutta vostra La storia della notte Senza rispetto alcuno E faccio la pena a voi E dai della voi E non c'è la campagna Qualcuno di chiedere Talvolta è perché C'è la barata È la piccola Della voce Non c'è la brisa Beh Da va Beh allora se sei nel mondo Per sentire E non s'integna Perchè stuja tutto stazenco Senza non sei brisa Verbi che dici Nostra Dè Se ne c'è l'ospedale Preciso Con calatina La parterra E E E E E E E E Grazie a tutti